I prossimi mesi saranno i più difficili. Venendo in macchina stavo pensando a cosa potremmo fare, perché questi non è che li schiudi, noi siamo democratici, quindi non usiamo i bastoni, dobbiamo usare le armi che la democrazia mette a disposizione. Siamo andati in 100.000 in piazza Duomo a Milano, una manifestazione stupenda, però non è cambiato ancora abbastanza. E quindi mi chiedevo cosa facciamo? Non so se avete voglia o se avete impegni, però abbiamo avuto la stessa idea. Però non so se avete qualcosa di prenotato per sabato 28 febbraio. Ci sono battesimi, matrimoni, cresime, niente? Allora proviamo ad andare in tantissimi a Roma sabato 28 febbraio per mandare a casa Renzi. Non ho sentito l'applauso. Andiamo a Roma sabato 28 febbraio a ribaltare tutto quanto. Basta. Allora abbiamo deciso. Sabato 28 febbraio abbiamo un impegno. Sabato 28 febbraio abbiamo un impegno, ma non sarà un impegno della Lega. La nostra scommessa è che non sarà un impegno della Lega. Perché quel giorno l'Italia si deve fermare. Commercianti, artigiani, agricoltori, imprenditori, esodati, pensionati, disoccupati. Quel giorno andiamo a Roma e ci riprendiamo il nostro futuro. Costi quello che costi. Che bellissima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.